In quel c***o c'è un furgone con crema di furgone, coglio... Ehi tu che c***o fai? Ora, ora no, ora ti ammazzo, coglio... Mi chiamo Gerol, ma per tutti sono una Chrysler, ma per tutti sono Gesù, sono sulla 51 e ho appena caccato sul ricato. Mi ha chiamato Gerol, ha staccato un furgone grigio-frigio in un grigio... Se parcheggiate in strade così strette, le scale non possono passare se qualcuno avesse un infarto o cadesse da te i mezzi di soccorso. Perciò, se blocchi le entrate, io devo venire. E venire. Avevo messo le quattro frecce, era un'emergenza. Rimuovete un mezzo in stato di emergenza. Quella è matta. Dovete mettere un c***o in quella torta. Fantastico. Quella è una torta tortale. Sembra proprio una torta. Signora, c'è un uomo per lei. Tron. Ciao. Ehi, sei quella con cui ho parlato prima? Dipende, che vettura sta a cercarla? Vaffanculo. Quanto devo pagare? Sono 225. Va bene, ma prima di pagare... Vaffanculo. Hai andata a casa del tuo fidanzato anziché fare la consegna. Non era nessuna emergere. Vaffanculo. Non prega che la testa sia sana e salvo. Ti spacco la torta. Apri la portiera. Ma che diavolo? Sta per aprirti il c***o, strano. Non toccarmi, hai capito bene? Dio Dio Alberto, non è possibile. Dio Dio Alberto, non è possibile. Adioh.